Giampatrì, Milano si è abituato a vincere in rimonta, certo questa è una vittoria meno importante di quella di mercoledì scorso però importante per iniziare al meglio questo torneo dei playoff challenge, è un obiettivo della squadra anche perché l'anno prossimo questa coppa che oggi è arrivata qui all'Allianz Cloud è una coppa che deve essere difesa, quindi oggi era importante vincere, lo ha fatto Milano in rimonta contro una squadra padova che comunque ha messo in difficoltà Milano. Sì abbiamo disegnato di vincere questo playoff per andare al cinque posto, per il quinto posto, per avere la possibilità di rigiocare la challenge che abbiamo vinto che è incredibile, allora sì dovevamo vincere sicuro, era difficile perché abbiamo vinto in Turchia la partita, poi c'è il trasferta, tutto questo e rigiocare subito dopo una vittoria così, c'è tutta la pressione che scende, è difficile, lo sapevamo, lo sapevamo che era difficile. Si era Nicola Pesaresi che stava passando in mezzo alla telecamera, come hai detto tu la tensione è un po' scesa anche per Nicola, Padova però ha dimostrato, l'ha dimostrato in campionato, l'ha dimostrato anche oggi di essere una squadra giovane che sa mettere in difficoltà gli avversari, è stata però brava Milano, va riconosciuto che è tornata con la testa, con l'adrenalina del match in partita, perché certe volte, certe partite magari rischia anche di perderle ed era un peccato perdere una partita del genere. Siamo partiti tesi, un po', senza energia, poi dopo abbiamo ritrovato un po' il nostro cuore, abbiamo giocato con questo, ma loro sono stati bravi perché hanno messo molto di energia direttamente, hanno messo in difficoltà, ci siamo ripreso un po', non era facile, l'abbiamo fatto, siamo abituati, è vero che siamo abituati a fare la remontata. Mercoledì, magari non in rimonta, c'è Cisterna, un'altra partita difficile, Cisterna tra l'altro ha vinto oggi 3-0 contro Vibo Valencia, si giocano tante partite in pochi giorni, servirà l'apporto di tutti, questo è molto importante, tra l'altro Cisterna è una tua ex squadra, ci sarà anche un pizzico di emozione, è già affrontata in questo campionato, però giocare sempre con la squadra che ti ha lanciato in Italia è sempre un piacere. Sì, ma sarà una partita difficile perché loro non hanno giocato da molto tempo, hanno avuto un po' di riposo, la possibilità di lavorare molto, hanno la voglia di rigiocare, mi aspetto una partita difficilissima, dovremo battagliare per giocare questa partita, sarà forse una delle più difficili, forse credo. Grazie